Io credo che l'attuale governo sia una cosa positiva, non una cosa che guardiamo con sufficienza perché non è la cosa che ci deve piacere. È l'unica che oggi al Paese può dare una via di speranza, una via di uscita dalla difficoltà e dalla crisi. Senti, però quando si vedono situazioni tipo i partecipanti al governo, sottosegretari, i viceministri di una forza politica che ha deciso di passare all'opposizione e che però rimangono dove sono. Quando un soggetto come De Luca, per parlare invece di uno del tuo partito, che si fa dire dall'antitrust che non può stare laddove era logico che non potesse stare sia a fare il sindaco di Salerno che a stare nel governo, tu per esempio quando sei entrato nel governo hai chiuso la tua partita come sindaco di Padova, non è che te lo siete tenuto con l'elastico quel posto. Di fronte a queste cose qua, poi non si rischia di alimentare il vaffa di Grillo? Sicuramente sì. Per esempio un'altra cosa che veramente indigna i cittadini è questa corruzione minore che sta emergendo per cui c'è gente che ha chiesto rimborsi per cose assurde o che è riuscito a mangiare cinque volte nello stesso giorno e porta gli scontrini e nello stesso giorno a 500 chilometri e nella stessa ora a 500 chilometri di distanza. Queste cose secondo me... È minore se fai il calcolo che rispetto alla tangente Enimont è un po' meno. Chiamiamolo minore, ma credo indigni quasi di più perché da l'idea di questa voglia di approfittarsi di una posizione che invece dovrebbe essere di impegno e di servizio nel modo più bieco e anche i comportamenti di chi non rispetta le regole danno fastidio e sono tanti elementi che allontanano i cittadini dalla politica.